Torniamo ancora una volta sul tema della nuova valutazione alla scuola primaria per aiutare i genitori ad orientarsi meglio nel sistema che sta prendendo avvio proprio in questi giorni. La prima avvertenza è questa. Ricordate che i giudizi che verranno usati non sono una traduzione dei voti perché la logica è proprio diversa. In via di acquisizione non vuol dire 6, avanzato non significa né 9 né 10. Evitate di chiedere all'insegnante, sì maestra ho letto la scheda ma non ho capito molto, in conclusione in matematica mio figlio è un 7 o un 8. Un bravo insegnante non vi risponderebbe mai e vi direbbe semplicemente che vostro figlio o vostra figlia sta progredendo bene o sta progredendo con difficoltà nell'apprendimento della matematica. Anzi per la verità vi direbbe che vostro figlio o vostra figlia se la cava bene con il calcolo scritto o mentale ma che ha qualche difficoltà nello risolvere i problemi. Proprio perché i giudizi non riguardano l'intera disciplina di insegnamento ma i singoli obiettivi. Se vostro figlio o vostra figlia ha una qualche forma di disabilità tenete sempre conto che il giudizio riguarda gli obiettivi che stanno scritti nel PEI, il piano educativo individualizzato. Soprattutto poi dovete sapere che i giudizi non descrivono vostro figlio o vostra figlia ma il modo con cui ha raggiunto o non raggiunto i diversi obiettivi di apprendimento. Un eventuale giudizio negativo non è un giudizio su di lui o su di lei ma soltanto su un aspetto specifico del suo percorso di crescita. Allora se volete aiutare vostro figlio o vostra figlia a superare le difficoltà parlatene con l'insegnante e aiutatelo con attività che possano farlo migliorare. Ma non fategli fare esercizi proposti dal sussidiario, proponetegli attività e giochi possibilmente divertenti. Fategli maneggiare il denaro per aiutarlo in matematica, leggete un racconto con lui e parlatene in modo da aiutarlo a comprendere meglio ciò che legge. In cucina fatevi aiutare a pesare la pasta o il riso o ad usare il contaminuti. Se siete fuori casa leggete le insegne insieme con lui. Sono attività apparentemente banali ma molto utili. Nella peggiore delle ipotesi avrete trascorso del tempo insieme. Perché ricordiamo che anche grandi pedagogisti insistono sempre molto sulla importanza dei tempi di apprendimento. Non bisogna mai avere fretta. Pensate che c'è persino qualcuno che ha parlato della pedagogia della lumaca. Per imparare, bambini e bambine hanno bisogno di tempo e soprattutto non hanno bisogno di essere giudicati ma di essere incoraggiati. Grazie. Grazie a tutti.